e ora torniamo a collegarci in diretta con la ex Eutelia di Roma che è stata posta sotto controllo dal governo attende di sapere adesso entro febbraio se verrà commissariato oppure andrà in fallimento con tutte le conseguenze per i lavoratori in diretta Matteo Parlato, Matteo Buonasera, buonasera qui dall'Eutelia e allora qui con me come vi dicevo vi parlavo prima di una spirale positiva che si è rotta con il governo e ora voglio farvi parlare con i protagonisti che vi spiegheranno che cosa è successo e qual è questo problema delle commesse che vengono a mancare Sì, di fatto la presidenza del Consiglio dei Ministri nella figura del sottosegretario Gianni Letta si era impegnato per salvaguardare le commesse di questa azienda nel momento in cui appunto il Tribunale Fallimentale aveva dato mandato ai custodi giudiziari appunto di preservare il patrimonio commesse che la maggior parte di questa appunto sono commesse pubbliche invece da quando il Tribunale appunto ha messo sotto sequestro l'azienda nominando tre custodi giudiziari di fatto si è scatenato un killeraggio nel mercato in pratica commesse importantissime, RAI, la vostra, quindi l'assistenza software e hardware della RAI la Camera dei Deputati, le poste italiane commesse che le poste italiane da sola cubavano 80 persone in tutta Italia la RAI cubava più di 60 persone, la Camera dei Deputati 18 specialisti insomma commesse importantissime e di fatto oggi questa società non gestisce più quindi nonostante gli impegni della presidenza del Consiglio dei Ministri una figura massima dopo l'onorevole Letta c'è l'onorevole Berlusconi insomma nonostante questi impegni, impegni fortissimi, i committenti pubblici invece si sono fatti prendere da altre smagni del mercato, probabilmente smagni economiche diciamo noi è stato fatto che togliere in questo momento commesse a questa azienda in un momento in cui i custodi stanno cercando di chiudere la stalla per non far uscire i buoi è evidente che far scappare i buoi prima o durante con questi mezzi vuol dire consegnare l'azienda non a custodi giudiziari ma a fallimentari e quindi vuol dire segnare il futuro dei lavoratori senza commesse siete fuori dal mercato praticamente questo è il problema che voi reclamate e che queste aziende pubbliche vi hanno lasciato fuori ma come dipendente come vedete questa decisione di queste aziende? ma assolutamente scandalosa intanto senza commesse non siamo fuori dal mercato siamo fuori dal mondo del lavoro perché il nostro lavoro è quello per cui riteniamo gravissimo e irresponsabile l'atteggiamento della RAI per esempio perché tra l'altro questa decisione viene presa il 23 mattina cioè noi abbiamo avuto i nostri colleghi con i badge disabilitati il 23 pomeriggio il 23 mattina c'era il pronunciamento del tribunale fallimentare di Roma appunto sulla nomina dei tre custodi per cui riteniamo assolutamente scandalosa e gravissima questa cosa perché intanto voglio dire non paga neanche il nostro sforzo noi sono due mesi e mezzo che stiamo qui dentro per cercare di sensibilizzare tutto il governo tutte le aziende pubbliche non solo sulla nostra solicitazione ma soprattutto su quella del governo al mantenimento delle commesse e poi un'azienda pubblica come la RAI oppure un'azienda diciamo pubblica come la Camera dei Deputati che si trova dove viene sotto a quella dove è stata presa la decisione appunto del mantenimento delle commesse decidono di abbandonarci così improvvisamente e in questo modo per cui per noi è una situazione assolutamente gravissima questa ecco come avete visto questo qui è l'umore che si registra qui all'ex Eutelia e appunto c'è molto disappunto per questa decisione per questa perdita di commesse se avete altre domande da studio se no vi restituirei la linea grazie Matteo Parlato grazie a tutti